Ben trovati nell'angolo dello sport. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Oddo ha indovinato tutto partendo basso senza dare pressione alla squadra in attesa del momento per colpire e il momento è arrivato quando Scozzarella stupidamente da parte sua ma fortunatamente per il Pescara si è fatto espellere per un gesto così di irritazione e naturalmente il Pescara giocando 11 contro 10 si è trovato favorito, questo è un dato di fatto e sono arrivati due gol, due gol che anche se non ti danno la certezza però è un bel viatico per la partita di giovedì prossimo a Trapani. È un Pescara che sarà promosso anche partendo con un gol di scarto, cioè se il Pescara dovesse perdere con un gol di scarto andrebbe in serie A. Naturalmente sono delle valutazioni da fare sul piano esquisitamente tecnico-tattico, è chiaro che il Trapani per poter riprendersi dal 2 a 0 subito a Pescara dovrà fare due gol e quindi dovrà scoprirsi e scoprendosi potrebbe lasciare il fianco aperto a quella Padula che ieri ha segnato il suo trentesimo gol tra campionato e play-off. Quindi un risultato stratosferico per questo ragazzo che per fortuna non è stato visto e capito da Conte, il selezionatore della nazionale italiana, perché ce lo avrebbe tolto per questi play-off e sarebbe stata una iattura. Comunque sia, a ben valutare le varie situazioni, un Lapadula oggi meriterebbe sicuramente un posto in nazionale. Parlando della partita, qualcuno ha criticato, proprio per spaccare il capello in quattro, Oddo per delle sostituzioni. Da parte mia invece credo che le sostituzioni siano state ben fatte precise, perché Verde per esempio è stato l'ispiratore del secondo gol e quindi è entrato bene nel contesto della partita. Forse qualcuno avrebbe preferito vedere in campo Pasquato al posto di Mitrita e qui si potrebbe anche accettare la soluzione, cioè un Pasquato rispetto a Mitrita poteva dare qualcosina in più, ma anche Mitrita deve giocare per certi discorsi societari. Quindi in definitiva è stata una festa ieri, la festa per i 20.000 e quel poco di pioggia che è caduto non è che ha dato tanto fastidio e ora si aspetta ancora di più con fibrillazione nella partita di giovedì sera, di giovedì prossimo. I tifosi sono organizzati, ci saranno due voli charter, uno organizzato da Sfamur e un altro dai Rangers, quindi due charter per portare circa 400 tifosi perché più di quelli non possono essere ospitati a Trapani, data la situazione logistica che non permette una presenza maggiore. Chi sarà l'arbitro è presto dirlo, però ci auguriamo che sia un arbitro veramente all'altezza della situazione perché il Pescara a Trapani sicuramente troverà un ambiente più che riscaldato, direi quasi bollente. Possiamo chiudere qui. Un affettuoso abbraccio a voi tutti da Gianni Lussoso come sempre, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.